Tutto esaurito da mesi nei bed and breakfast e nei ristoranti di San Martino del Lago. L'imminente gran premio del moto mondiale Superbike ha portato un'ondata di aria fresca nel comune in cui è situato il Cremona Circuit, che ospiterà la gara. È infatti prevista un'affluenza di circa 50.000 persone, di cui 20.000 nei soli San Martino del Lago e Castelponzone. I commercianti locali testimoniano come l'evento abbia decisamente rivitalizzato l'area, rendendola appetibile ai turisti e agli appassionati delle città vicine. Abbiamo già tutte le prenotazioni, sia per la ristorazione che poi per la locanda e le camere, già da mesi, riceviamo diverse chiamate, siamo sicuramente un po' agitati ma molto orgogliosi di avere questa manifestazione proprio qua vicino a noi. È sicuramente una buona opportunità sia di crescita nostra che anche per il territorio perché comunque di solito non porta tanto turismo, invece magari questa potrebbe essere un'opportunità per essere un po' più conosciuti. La pista stessa ha portato a un cambiamento abbastanza significativo con la Superbike, in effetti il numero dei clienti e l'afflusso è decisamente superiore rispetto a prima. Stiamo adattando gli orari di apertura del negozio in modo tale che si riesca a offrire un servizio più completo all'ipotetica clientela che ci può essere qui nel maggior afflusso di persone. Questa è una zona assolutamente morta, quindi la pista è un evento come la Superbike che sicuramente darà lustro a tutta la zona. Abbiamo già dei team che vengono a mangiare perché tutto l'anno frequentando la pista si basano sui vari locali qui vicino e oggi avremo quelli della Dorna, gli organizzatori, molti giovani, molti nelle passate giornate che hanno fatto le prove e vedremo perché anche per noi è una cosa nuova, molto inaspettata.